L'almanacco della fede Di Padre Livio Cari amici siamo in un momento diciamo di grande apprezzione per questa violenza che esplosa improvvisamente in Medio Oriente con immagini accapriccianti che ci testimoniano quanto avesse ragione la Madonna negli anni scorsi a ricordarci che Satana vuole l'odio che Satana vuole la guerra che Satana cerca di scardinare i cuori per conquistarli e questa è una realtà che vediamo quotidianamente nel mondo cioè il vero pericolo per il mondo è proprio questa carica di odio che c'è nei cuori e questo è un virus micidiale un virus mortale perché l'odio uccide la carità e quindi uccide l'anima e quindi per noi è un pericolo gravissimo dal quale dovremmo guardarci mi viene in mente in questo momento il messaggio che la regina della pace ha dato il 25 agosto del 2011 quando appunto ha detto cari figli invito tutti voi figlioli che avete risposto alla mia chiamata ad essere gioia e pace e poi ha detto con la vostra testimonianza testimoniate il cielo che io vi porto e allora figlioli ha detto alla Madonna di essere il riflesso del mio amore per tutti coloro che non amano e i cui cuori sono conquistati dall'odio ripetiamo questo passaggio che è importantissimo per noi è l'ora figlioli di essere il riflesso del mio amore per tutti coloro che non amano e i cui cuori sono conquistati dall'odio poi ha proseguito dicendo non dimenticate io sono con voi e intercedo per tutti voi presso mio figlio Gesù affinché vi doni la sua pace grazie per aver risposto alla mia chiamata quindi cari amici la Madonna in questo momento in cui Satana vuole preparare la distruzione del mondo come la Madonna ci ha detto tre volte in tutti questi 42 anni cioè che Satana vuole distruggere le vostre vite il pianeta sul quale vivete e appunto la vuole distruggere con che cosa? con una bomba diciamo micidiale che è quella dell'odio nel cuore poi l'odio è l'odio contro Dio l'odio contro Cristo l'odio contro tutti quelli che che seguono la via della pace e del bene quindi diventa persecuzione diventa distruzione è una forma di accecamento che porta diciamo degrada l'essere umano a qualcosa di diabolico e proprio a questo penso che la Madonna facesse riferimento quando ha detto siate mia immagine e non l'immagine di Satana cioè la Madonna è l'immagine della pace e Satana è l'immagine dell'odio ora questa è la possiamo dire il virus che sta infestando il mondo per cui esplodono crateri qua e là ma poi in realtà è una infezione che coinvolge tutti con la quale Satana cerca di impadornirsi del mondo cerca di prevalere e cerca di portarlo dove lui vuole portandolo alla distruzione mediante la guerra e alla perdita dell'anima mediante l'odio perché come ci dice la teologia cioè l'effetto micidiale dell'odio è quello di uccidere la carità di Cristo che è in noi quindi uccide l'anima cioè la distrugge la distrugge nel senso proprio della perversione la perverte e questo lo dico cari amici perché ovviamente noi siamo in questo modo noi ovviamente ascoltiamo le informazioni vediamo la televisione vediamo sentiamo tanti messaggi e rischiamo di essere coinvolti in queste bufere che eccitano i cuori e poi li portano diciamo li portano a uno sguardo torvo a uno sguardo grifagno nei confronti degli altri e questo avviene spesso nella nostra vita tutte le volte che entriamo in conflitto con qualcuno siamo invidiosi siamo prepotenti eccetera siamo avidi e allora molte volte questa potenza di distruzione si afferra fino a far del male agli altri perfino ucciderli ma questo ormai è diventato un come dire una una realtà che coinvolge i popoli coinvolge l'intera umanità per questo la Madonna ci ha messo in guardia con tante volte anche in questo tempo del Covid vi ricordate che quando dicevamo la Madonna è preoccupata di ciò che noi siamo preoccupati cioè del Covid è preoccupata di un virus molto più pericoloso quando dice Satana muore l'odio Satana muore la guerra ora ovviamente noi dobbiamo stare molto attenti perché se trovo una piccola apertura Satana cerca di entrare cerca di entrare e cerca di come dire di inquinare il nostro cuore e quindi poi di portarci a pensieri parole comportamenti che sono colto il comandamento fondamentale della morale cristiana è che ama il prossimo come te stesso per questo dobbiamo vigilare cari amici cioè ovviamente dobbiamo andare oltre dobbiamo andare oltre le considerazioni del mondo le considerazioni di carattere politico e sociale che hanno anche loro hanno la loro importanza però comunque si rimane sempre come dire in una situazione in cui i torti e le ragioni sono sempre difficili da chiarire tuttavia dobbiamo andare oltre nel senso che di non farsi mai offuscare lo sguardo così che poi non vediamo più negli altri cioè quelli che non la pensano come noi che non sono come noi che sono diversi da noi vedere delle persone vedere in essi dei nemici cioè delle persone da eliminare delle persone da emarginare quando questa come dire malattia dell'anima ci prende attenzione che è di una pericolosità estrema perché uccidi noi la carità cioè ci priva dalla presenza di Dio cioè l'odio l'odio veleno mortale per cui non perdevo mai lo sguardo soprannaturale nel guardare gli altri che hanno magari dei torti che hanno magari delle colpe però non perdere mai con lo sguardo che Gesù ci ha insegnato cioè massima rigore nel considerare il peccato grande carità nel considerare il peccatore nel considerare quelli che sbagliano nel considerare quelli che che sono sulla strada sbagliata perché poi questi ci sono insomma come ha detto la Madonna nel suo messaggio per queste persone per tutte queste persone che non amano e i cui cuori sono conquistate dall'odio noi dobbiamo ripagarle con la medesima moneta per cui poi l'odio accende l'odio finché poi si arriva si arriva proprio all'aggressione si arriva a farci del male a vicenda ma dice la Madonna per queste persone voi che avete risposto alla mia chiamata voi siate gioia e pace cioè siate gioia e pace perché poi parlare serve a poco perché quando dentro c'è il risentimento come dire se non viene se non viene bonificato la radice questo risentimento e questo è un lavoro che deve fare ognuno deve fare ognuno interiormente e lo potrà fare se si mette davanti a Dio al suo amore per cui se non c'è questo atteggiamento parlare serve a poco serve essere come dice la Madonna essere gioia e amore ecco cioè cerchiamo di essere quello che vogliamo essere cioè come apostoli di Maria siamo immagini di Maria la Madonna ci dice cari figli anche quando sbagliamo anche quando siamo lontani da Dio anche quando siamo sulla via del maligno ci dice cari figli anche allora ci chiama e ci manifesta il suo amore di madre che molte volte è anche un amore sofferto sofferente come quando la Madonna piange per i figli che si perdono nel male quindi la Madonna ci invita a questa come dire a questo sforzo a questo sforzo che poi non è uno sforzo che manca di esempi perché se guardiamo la storia della Chiesa a partire tutta la Sacra Scrittura ma soprattutto le testimonianze dei Vangeli dei primi cristiani pensate tutti quelli che come c'è degli apostoli per dire e tutti quelli che poi sono morti pregando per i loro persecutori ad imitazione di Gesù e sono morti pregando sono morti benedicendo e non sono mai morti urlando o imprecando o maledicendo ci sono dei modi di morire quello del cattivo ladrone che bestemmiava e quello del muo ladrone che chiedeva perdono quindi siccome andiamo verso momenti cari amici in cui motivi di risentimento di scandalo anche di odio perché è chiaro che quando si vede quello che si è visto in questi giorni cioè i neonati degabitati uno cosa può dire perde la parola si perde la parola però questo deve essere un ammollimento per noi perché quando l'odio invece mette quello ideologico ideologico nel senso che è un odio che giustifica se stesso che trova le ragioni per generare se stesso quando noi ci facciamo prendere da questa spirale anche noi diventiamo capaci di fare tutto quello che ci scandalizza in questo momento per cui siccome come sappiamo non si vedono si sta vedendo l'umanità che corre su questa strada che precipita lungo questa china lungo questo abisso noi dobbiamo attrezzarci interiormente soprattutto mediante la preghiera aprendo il cuore all'amore di Dio per fortificarci per essere quello che Madonna ci dice di essere gioia e pace per tutti quelli che non lo sono non lo vogliono essere e che in poche parole non amano perché i loro cuori sono conquistati dall'odio col quale Satana si instaura nei cuori quindi questa è una battaglia veramente fra Dio il suo amore e Satana il suo odio fra l'umiltà di Dio e la superbia degli uomini allora questa è la strada che dobbiamo percorrere cari amici è faticosa ma però la preghiera il perdono l'intercessione quello che Gesù ha detto padre perdona loro perché non sanno quello che fanno e tutto questo si preserva dal male si tiene nella luce di Dio nell'amore di Dio e ci fa come dire barriere che impediscono a Satana di prevalere è la grande battaglia cari amici ma alla fine l'amore vincerà ce l'ha assicurato la Madonna intanto facciamolo vincere in noi stessi adesso concludiamo questa questa riflessione adesso cari amici volevo in qualche modo aiutarvi a capire cosa sta succedendo in Medio Oriente perché è molto importante amato rendersi conto quale potrebbe essere uno sfocco per il quale dobbiamo pregare e anche chiedere l'intercessione chiedere l'aiuto di Dio e poi avere idee chiare insomma su come ragionare su situazioni che comunque con l'aiuto di Dio con la buona volontà vanno sottrate alla potenza del male allora per capire bene la situazione bisogna partire dal fatto che in Medio Oriente semplicemente negli ultimi anni c'è stata una tendenza di alcuni stati del Medio Oriente a riconoscere l'esistenza di Israele l'esistenza di Israele è stata fermata dall'ONU già nel 1948 aveva stabilito l'ONU che ci fossero due stati in Medio Oriente quello di Israele che comunque aveva già costruito diciamo nei mesi precedenti è un futuro stato palestinese per i palestinesi che vivevano lì nella zona di Israele nella zona della Palestina quindi due stati allora tutti gli stati arabi non hanno accettato questa risoluzione dell'ONU e hanno occupato si sono presi loro lo stato che doveva essere quello della Palestina ha detto i parole povere poi il nostro dia sarà contare tutte le guerre che sono sopravvenute dopo di fatto lo stato di Israele si è anche allargato fra l'altro però Israele ha promesso che avrebbe restituito le terre che aveva preso con le varie guerre a patto che gli stati vicini riconoscessero l'esistenza di Israele questa dunque è la condizione che Israele ha messo sempre allora questo non è mai avvenuto perché nessuno degli stati vicini ha mai riconosciuto Israele da due parole povere ultimamente c'è stata una diciamo così un avvicinamento a Israele da parte gli stati importanti insomma specialmente l'Arabia Saudita che sarebbe quasi disposta a riconoscere l'esistenza di Israele poi ovviamente vengono tutti gli altri sappiamo già se vuole relazioni con la Giordania vuole relazioni con l'Egitto vuole relazioni con gli Emirati Arabi quindi in questi tempi stava completandosi quello che vengono chiamati gli accordi di Abramo che aveva promosso gli aveva promosso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fra l'altro è uno suo merito fra gli stati che non vogliono riconoscere Israele e che lo vogliono distruggere c'è l'Iran che comunque è una potenza scivita nel Medio Oriente mentre gli altri stati sono sunniti diciamo e l'Iran ha nei suoi propositi politici che è la distruzione di Israele quindi questo è il suo obiettivo nel frattempo Israele che aveva ceduto la striscia di gas ai palestinesi e che le forze moderate avevano perso per installarsi di Hamas che è un'organizzatore terroristica questo non c'è dubbio filo iraniana a battuometo questa realtà che lì sulla striscia di Gaza ha più volte attaccato Israele con razze eccetera perché comunque essendo collegata con l'Iran insieme quindi agli sciiti del Libano di Hezbollah insieme appunto i palestinesi della striscia di Gaza sono diciamo così in un atteggiamento di guerra con Israele cioè vogliono distruggere lo Stato di Israele per due parole povere ma queste sono cose che dicono loro non è che le diciamo noi è la loro impostazione politica quindi quello che è avvenuto adesso è una dei tanti tentativi di indebolire Israele anche approfittando dalle debolezze interne che ha Israele dal punto di vista politico che ha rischiato anche di dividere l'esercito fra l'altro per motivi di carattere politico hanno scatenato questo che hanno scatenato con una feratezza spaventosa e fosse sperando di accendere quella miccia che avrebbe indebolito Israele fino al punto da aprire la strada a un attacco dell'Iran questo poteva essere quel che pensava Hamas poteva essere un progetto che avevano in mente anzi sicuramente ce l'hanno perché quello è il loro obiettivo allora non c'è dubbio che questo attacco è stato fatto soprattutto per impedire quello che l'Arabia Saudita stava per fare cioè essa stessa riconoscere l'esistenza dello Stato di Israele e quindi entrare a fianco di quei paesi come appunto l'Egitto come la Giordania come gli Emirati Arabi che sono già in buone relazioni con Israele quindi l'obiettivo sicuramente era quello di impedire questa pacificazione più ampia questo è il punto la spiegazione politica di questo attacco efferato che comunque è tale da far accapriciare tutti quelli che hanno un minimo senso d'umanità perché quando si arriva ad attaccare i kibussi ad uccidere i giovani vabbè per carità non so facevano una festa che era una festa sappiamo non c'è bisogno che stia lì a descriverla però insomma cose loro non è che faceva male a nessuno insomma hanno attaccato questi giovani hanno uccisi centinaia hanno attaccato i kibussi sono entrati hanno ammazzato donne e bambini hanno ucciso 40 bambini fra l'altro hanno decapitato hanno fatto quello che i diavoli fanno questo sono quelle cose che non si possono tacere ma già ha amassi in passato e ha fatto cose di questo genere mandando anche le donne kamikaze come vi leggerò fra poco se ho tempo e quindi adesso cosa è successo perché adesso viene il punto più delicato è chiaro che Israele non può tollerare i suoi confini è chiaro che Israele non può tollerare i suoi confini una formazione comunque che punta alla distruzione dello Stato di Israele e quindi deve difendersi però per Israele è difficile difendersi perché sulla striscia di Gaza ci sono almeno 2 milioni di persone la stragrande maggioranza delle quali è gente normale basti dire che prima che Hamas si insediasse nella striscia di Gaza gli israeliani e i palestinesi si frequentavano tranquillamente cioè gli israeliani andavano alla striscia di Gaza i palestinesi andavano i kibbutz di Israele scambiandosi merci tutto normale per anni ha fatto questo quindi non per dire no e allora adesso il problema qual è il problema prima di tutto è di sapere cosa vuole fare Israele l'almanacco della fede di padre Livio l'almanacco